buongiorno ragazzi bentornati al nuovo appunto con le news oggi parliamo di un prodotto più che un prodotto una lavorazione sul nostro prodotto in special modo adesso in questo caso sulle sulle canne sulla canna flutted ok questa è la nostra lavorazione facciamo con otto fruttature o dodici fruttature il profilo è una bull fruttata praticamente si possono fare con diverse diciamo come si può dire rifiniture questa è la blasted o sabbiata o satinata potete chiamarla come volete però di questo tipo di finitura qua otto fruttature o doce fruttature la proponiamo sia sui calibri per ar 15 sia sui calibri per ar 10 e sia in questo momento facciamo una novità diciamo che tra virgolette non ha nessuno in questo momento sul catalogo sulle canne 9 mm faremo una versione bull barrel fluttata anche lì pensiamo di introdurre anche una versione con rifinitura blasted oppure con finitura nera classica o anche cromata poi in alternativa possiamo fare con il rivenzimento team color oro come sempre sarà compiegato da qualche foto qualche video specifico sulla canna per qualsiasi cosa potete chiamarci o mandare una mail a vostra disposizione come sempre grazie 2